Snocciolare i numeri è sempre l'attività più eloquente nel calcio, sport nel quale gli scores parlano più di qualsiasi altra statistica. Vullo preferisce glissare quando gli viene chiesto dove sarebbe potuto arrivare questo campo basso con lui da condottiero sin dall'esordio. Certo è che la media punti del tecnico siciliano 1.72 a partita avrebbe fatto chiudere il rosso-blu a quasi 60 punti, un totale che avrebbe garantito un posto al sole al campo basso. Sono i discorsi fatti con il senno del poi, rimane negli annali l'impresa targata Vullo, Ciccone e i ragazzi che all'inizio dell'avventura speravano realisticamente di rientrare in un discorso play-out. Soltanto un ottimista incallito ma forse anche poco assennato avrebbe potuto credere a una rimonta pazzesca, diventata poi realtà dal 3 febbraio in poi, giornata ventilata vissuta in provincia di Pisa quando i lupi persero a Ponte d'Era. Il tabellino continua a reregarla come l'ultima sconfitta stagionale. Vullo con i dovuti e giusti innesti ha plasmato anche la psiche dei suoi da squadra molle e sterile a formazione nella quale molti sono andati a segno. I dati parlano di ben nove giocatori che hanno realizzato almeno un gol. Il contributo lo hanno offerto tutti indistintamente. Di questi nove infatti che sono Bussi, Esposito, La Keb, Rice di vicino, Maiella, Fella, Boi e Petrassi, ben tre sono difensori, Minadeo aveva iniziato a segnare già nella gestione tecnica precedente di Inbimbo. Non si scorgono novità all'orizzonte per la questione societaria che rimane abbastanza complessa. Si vocifera addirittura che il mancato pagamento delle spettanze di gennaio e febbraio entro il prossimo 20 maggio potrebbe far decadere dal diritto all'iscrizione al prossimo campionato, ma è una notizia da prendere con il beneficio di inventario. Si registrano di contro delle iniziative da parte dell'ormai ex aspirante e acquirente del Campobasso Giulio Di Palma il quale tornerà in Molise venerdì pomeriggio prossimo per stostare fino a sabato mattina compreso Di Palma ha già allacciato contatti con referenti sia del Campobasso 1919 che del Boiano, neopromosso in Serie D. L'intenzione seria del Vicentino sarebbe quella di predisporre un progetto di ampio respiro a livello imprenditoriale nel quale abbracciare alcune realtà sportive campobassane e non. Secondo Di Palma il progetto sarebbe fattibile e grazie ad alcuni discorsi già avviati la situazione potrebbe concretizzarsi proprio attraverso la sua ennesima discesa in Molise prevista per dopodomani. Tornando al Campobasso e alla sua straordinaria salvezza il parere entusiasta di Bussi. Ok Bussi mangia Bussi, va bene, due parole anche da parte tua. Io che devo dire, anche io devo ringraziare a tutti come ha detto il capitano perché abbiamo raggiunto una salvezza importantissima veramente per tutto, per la città, per il gruppo, bellissimo. Eravamo retrocessi alla fine, cioè alla fine a novembre, novembre, dicembre. Ci eravamo tutti per spacciati invece come vedi alla fine ci siamo salvati. Oltre ogni aspettativa. Oltre ogni aspettativa veramente, ma noi ci abbiamo creduto dall'inizio fino alla fine. Campobasso si sta bene? Alla grande. Vuoi rimanere? Sì, mi sono fidanzato, ma mi sposo, quindi starò a vita. Sì, sei fidanzato? Ah, sto scherzando!